L'incontro di oggi è finalizzato a riflettere su alcuni aspetti che riguardano la documentazione sulla storia dell'integrazione europea mediante l'utilizzo del web. La dichiarazione Schumann viene considerata un po' la data simbolo, infatti corrisponde con quella che ogni anno viene festeggiata come festa dell'Europa, dell'avvio del processo di integrazione europea e lo consideriamo ormai come atto originario perché ha fondato poi le basi per la costruzione della ceca e per le realizzazioni successive. Possiamo dire che ormai abbiamo accumulato almeno 70 anni di storia, 70 anni di storia che ormai costituiscono un patrimonio abbastanza consistente per una riflessione complessiva sul modo con cui è stata studiata, ma anche sul modo con cui è stata raccontata e quindi sulle forme con cui si presentano questi processi e come li troviamo rappresentati su internet. Parto da una considerazione, molto spesso nell'affrontare alcuni temi, soprattutto quelli che toccano maggiormente la realtà che viviamo tutti i giorni, avvertiamo tutti i limiti del manuale scolastico e quindi avvertiamo la necessità di compiere questo buco nel cielo di carta del manuale scolastico. Questa forte spinta d'altro canto trova una limitazione nella coperta corta dell'orario curricolare. A maggior ragione in tempi di didattica digitale integrata non è assolutamente semplice gestire l'orario lezione al tempo stesso la necessità di compiere degli approfondimenti o comunque un'analisi accorta di alcune di queste problematiche. Pertanto molto spesso anche in ossequio al principio fondativo delle metodologie didattiche più aggiornate, facciamo riferimento alla capacità da parte dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze di compiere delle indagini su web con un certo grado di autonomia e soprattutto la modalità della Flipped Classroom o modalità comunque fondate sulla ricerca, azione e similari, comunque richiedono questo attivarsi per cercare materiali sulla rete. Però il problema è proprio questo, cioè quali opportunità ci presenta la rete e quali rischi. Io mi diffonderò un po' su questo, naturalmente nel rapporto con lo specifico tema della storia dell'integrazione europea e cercherò di fornirvi degli strumenti per un uso consapevole di queste risorse, soprattutto di quelle digitali ma anche di quelle cartacee perché vedremo che anche i libri di testo e eventuali materiali che hanno a che fare con le politiche della memoria risentono di alcuni di questi problemi, quindi non sono esenti dalle problematiche che evidenzierò. Nel fare questo evidenzieremo anche alcuni dei nodi tematici rilevanti che proprio riguardano nella razio la storia dell'integrazione europea. Dopo aver esaurito questa presentazione ovviamente ci sarà la possibilità per dibattere un po', per eventualmente soddisfare anche delle curiosità delle richieste di chiarimenti e il tempo residuo che avremo lo potremo dedicare a eventualmente visionare materiali e ipotesi di lavoro concreto che comunque io metterò a disposizione attraverso la professoressa Lanotte, attraverso un dossier documentale e didattico. Il primo elemento sul quale voglio attirare la vostra attenzione è quello delle cronologie e delle narrazioni in pillole dell'integrazione europea. Il web è pieno di risorse di questo tipo, diciamo una ricerca generica sulla storia dell'integrazione europea attraverso vari tipi di siti fa emergere una congeria, una pletora direi di narrazioni sintetiche. Possono avere questo supporto grafico anche accattivante, possono essere corredate di cartine oppure possono essere piuttosto semplicemente sintetiche. In ogni caso abbiamo queste narrazioni che hanno il vantaggio di offrire un colpo d'occhio nel tempo di come questa costruzione molto particolare sulla quale poi rifletteremo si è sedimentata e arricchita col passare del tempo. Questo tipo di materiale presenta opportunità ma anche problemi. Io ho fatto un excursus su tutto quello che si può trovare in rete e vi presento molto velocemente alcune cose che si possono notare. Per esempio, non so, sito italiano di natura istituzionale, vediamo che tutto questo discorso viene fatto incominciare dal 1941 con il famoso manifesto di Ventotene firmato da Spinelli, Rossi e poi con anche l'ausilio di Colorni. E poi abbiamo altri appuntamenti tra i quali alcuni anche laterali rispetto al processo principale, cioè la nascita del Consiglio d'Europa che poi prende un altro percorso, un percorso tutto suo. L'appuntamento della dichiarazione Schumann del 50, la nascita della CETA nel 51, i trattati di Roma con la nascita della CE dell'Euratom nel 57 e la nascita della politica agricola comune, l'unione doganale e via dicendo. Può essere interessante confrontare cronologie sintetiche di questo tipo con altre rappresentazioni similari, per esempio in altri paesi. Qui abbiamo per esempio una cronologia molto più sintetica sviluppata da un centro dottorale della Sorbonne di Parigi e qui oltre agli appuntamenti canonici abbiamo per esempio l'evidenziazione di altri aspetti e cominciano a comparire anche degli elementi critici, per esempio il no pronunciato dalla Francia e dai Paesi Bassi in un referendum nel maggio-giugno del 2005 sulla Costituzione europea. In ogni caso sono le grandi tappe della Costituzione europea, come recita il titolo e andando avanti il sito europa.eu, il sito europa.eu è un sito, è il sito ufficiale di documentazione dell'Europa della storia dell'integrazione europea e di altri aspetti ovviamente della costruzione comunitaria e presenta diversi livelli di approfondimento e documentazione della storia dell'Europa. Tra questi c'è anche una pubblicazione sintetica in formato pdf che col passato del tempo è stata aggiornata, adesso abbiamo ancora quella del 2018, che si chiama l'Europa in 12 lezioni e che al termine presenta anch'esso una cronologia di queste che appunto stiamo indagando e discutendo. E esaminare questa cronologia è molto utile, la troviamo in varie lingue, però diciamo i contenuti sono identici, cambia solo la traduzione. Per esempio la prima pagina di questa cronologia presenta gli appuntamenti canonici che abbiamo visto prima e cioè la dichiarazione Schumann, la nascita della ceca, la conferenza di Messina che prepara il trattato di Roma del 57 e poi altri appuntamenti che riguardano lo sviluppo del libero scambio oltre al trattato di fusione. Alla pagina successiva troviamo il primo elemento interessante del mio discorso, ossia Compromesso di Lussemburgo nel 66 dove si legge dopo una lunga crisi politica la Francia torna a occupare il suo posto a consiglio in cambio del mantenimento di voto all'unanimità ogni qualvolta si è in gioco l'interesse vitale di uno Stato membro. All'improvviso compare un riferimento a una crisi politica che però non era minimamente menzionato ovviamente nella cronologia, nella parte precedente della cronologia e a questo punto quindi ci viene di capire cioè ci nasce la necessità insomma di andare a capire che cosa era successo e lo facciamo consultando un'altra di queste cronologie, questa è presa da un'agenzia di stampo ovviamente, in cui noi scopriamo per esempio che da un lato per esempio nel 63 la Francia si era opposta tramite De Gaulle alla adessione del Regno Unito alla comunità europea, quindi c'era già un primo elemento di difficoltà e poi c'era quest'altro elemento del 65, 30 giugno 65 con il ritiro dei rappresentanti del governo francese e degli organi della comunità inizia la cosiddetta crisi della sedia vota voluta da Presidente De Gaulle, in sostanza c'erano sempre dei problemi che riguardavano l'impostazione della Francia rispetto al percorso comunitario che si stava cercando di costruire e solo alla luce di questo punto si capisce poi il significato e l'importanza del compromesso di Bussemburgo. Bene, da quello che abbiamo capito la cronologia precedente ci presentava la saldatura di una crisi senza farci capire bene quale fosse la crisi e quali fossero i problemi sorti nella parte precedente. Questi sono ovviamente tutti i limiti che si possono riscontrare nel momento in cui noi per avere un'idea generale di questi processi andiamo a trovare anche da siti affidabili notizie esatte ma comunque selezionate, ritagliate. Abbiamo sempre narrazioni particolari, dissonanti che evidenziano degli elementi canonici, cioè la data del 57 per esempio, quella del 51 sono ineludibili ma poi nel momento in cui andiamo a fare un ritaglio e una selezione ogni sito dà una sua prospettiva sullo sviluppo degli eventi creando comunque alcuni problemi. I giornali per esempio, i grandi giornali e le agenzie di stampa, poiché devono stare un po' più sul pezzo per inseguire le cosiddette narrazioni più strettamente collegate al problema della Brexit, sono un po' più attenti agli elementi critici rispetto ai siti istituzionali. Questo è il Telegraph ed è una pagina vecchia perché stiamo parlando del 2009, il Telegraph tra l'altro lo conosciamo come giornale del conservatorismo euroscettico inglese e nel fare la timeline della storia dell'Unione Europea fa incominciare il tutto non da ventotene ma da un discorso di Churchill, non a caso, che fa un appello, fece un appello per una sorta di Stati Uniti in un famoso discorso all'Università di Zurigo nel 1946. Poi ci sono i vari appuntamenti, alcuni di quelli canonici e poi per esempio nel resto della cronologia evidenzia un po' di più le vicissitudini del Regno Unito che presenta domanda di partecipazione alla comunità nel 1961 ma poi trova l'opposizione della Francia di De Gaulle ripresenta poi la domanda nel 1967 che sarà nuovamente bocciata e addirittura poi nel 1972 si evidenzia il referendum norvegese che dice no alla adesione della Norvegia quindi sicuramente una cronologia più attenta anche agli elementi di criticità. Potremmo andare avanti all'infinito con l'analisi di queste timelines, di queste cronologie ma ovviamente non è mio interesse diffondermi ulteriormente. Il problema è a cosa servono queste cronologie? Non aggiungono assolutamente nulla ovviamente sul piano della ricerca storica ma ci dicono molto sui problemi che sorgono nel momento in cui noi sentiamo il bisogno di narrare, di raccontare il processo di integrazione e confrontare queste varie timeline ci permette di evidenziare quelle che sono le ricorrenze, cioè i punti sui quali c'è un certo accordo che non solo sono i punti diciamo le milestones per esempio il 57 trattato di Roma ma sono anche alcuni punti e alcune figure ricorrenti nelle varie narrazioni sulle quali io poi tornerò ma poi le differenze, le differenze che evidenziano anche alcuni aspetti strettamente collegati alle intenzionalità della narrazione di chi produce la narrazione stessa quindi che si tratti di un'istituzione, che si tratti di un'agenzia di stampa, di un giornale e via dicendo questi sono tutti i problemi che sono connessi alla esigenza di produrre un canone narrativo e quindi non stiamo dicendo assolutamente nulla di nuovo rispetto a qualsiasi processo storico a 70 anni dall'origine del processo di integrazione comunitario ci confrontiamo con questioni che hanno riguardato la narrazione di tutte le storie nazionali per esempio o di altri processi importanti in cui esiste un significativo investimento dal punto di vista identitario l'interrogativo che nasce dalla visione di alcune narrazioni che tendono un po' a enfatizzare e evidenziare solo gli aspetti costruttivi glissando molto su quelli più critici è questo l'integrazione europea va narrata, va presentata esclusivamente come una storia di successi come una storia di acquisizioni, come una storia progressiva molte di queste cronologie cadono poi in questo rischio ossia quello di offrire l'illusione ottica di un processo espansivo, continuo e lineare a volte lo fanno volutamente però se noi torniamo all'obiettivo iniziale che ci siamo posti che è quello di evidenziare elementi conoscitivi per lo studio della storia da parte delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi è più utile cercare di aderire di più a ciò che realmente è accaduto e quindi evidenziare quelli che sono stati i semafori grossi e quelli che sono stati i semafori verdi fornisco qualche esempio molto concreto per quanto riguarda gli anni 50 per esempio un conto è se io presento una timeline di questo tipo cioè gli appuntamenti classici del 51 e del 57 un conto è se io invece con un semplice click presento questa timeline è molto diverso anche dal punto di vista didattico io solo in questo modo faccio capire veramente qualcosa in più ai ragazzi non solo di ciò che è accaduto ma anche della natura vera con cui poi si è costruita l'istituzione comunitaria e dopo dirò ancora qualcosa su questo c'è questa crisi importantissima che si consuma nel 54 in cui saltano alcuni elementi fondamentali di una unione politica che era quella su cui puntava molta dell'opinione informata europeista delle elite, degli intellettuali di tutti coloro che spingevano per un'unione politica e quindi da quell'estate in avanti il processo di costruzione comunitaria sarà un'altra cosa rispetto a come alcuni lo avevano sognato ma poi avrà una natura molto particolare il falimento del pool verde che pochissimi conoscono era l'anticipazione di quello che poi dopo nascerà come politica agricola comunitaria ma soprattutto il naufragio della comunità europea di difesa del 54 che era effettivamente una spinta in avanti significativa mettere in comune le politiche della difesa per quanto riguarda il problema dell'accessione della sovranità nazionale di un soggetto sovranazionale appunto che faceva saltare anche quindi il progetto annesso della comunità politica questa cronologia è più difficile da trovare non vi nascondo insomma che ho analizzato anche alcuni manuali alcuni manuali tra cui qualcuno di Geostoria in uso anche da voi e effettivamente alcuni manuali che presentano degli excursus storici di questo periodo oltre che dei successivi glissano su questi aspetti salvo dopo spesso riprendere il problema dicendo la comunità politica non si era sviluppata e si sviluppa dopo quando nasce l'Unione Europea però ecco è molto importante evidenziare questi aspetti e questi semafori rossi si possono ritrovare numerosi anche nei periodi successivi questi sono per esempio quelli degli anni 60 il fallimento dei negoziati per l'ingresso del Regno Unito nella CE e poi il secondo fallimento dell'Unione Politica la crisi della sedia vuota di cui abbiamo parlato prima e per esempio il nuovo fallimento della richiesta di adesione di Regno Unito e altri stati alla comunità una timeline che serva veramente da punto di vista didattico deve includere anche questi elementi possiamo fornire poi assolutamente in ordine sparso altri esempi di come si spargono e si mescolano rispetto a tutti i semafori verdi altri semafori rossi in tutto il percorso i due referendum norvegesi in cui si dice no prima la CE poi a lui i due referendum in cui Danimarca e Svezia dicono no all'euro insieme a tanti altri referendum in cui ovviamente ci sono i sì non c'è dubbio su questo bisogna evidenziare sempre tutti gli aspetti il no dell'Irlanda al trattato di Nizza il fallimento del progetto della Costituzione Europea con il no di Francia e Olanda questo è un arretramento o più o meno un segnare il passo importante del 2005 e ancora il no dell'Irlanda al trattato di Lisbona e poi la questione interessante dei casi di opt out cioè le eccezioni che poi sono state formalizzate in appositi documenti ufficiali per cui appunto alcuni stati si sono chiamati fuori da accordi condivisi invece dagli altri stati in questa classifica al momento provvisoria prima della Brexit in testa c'era il Regno Unito che aveva collezionato ben quattro opt out e tra quelli della Danimarca c'è uno pesante che riguarda quello dell'euro dell'adozione dell'euro nel senso che la Danimarca ha appunto fissato, definito la sua non adesione all'euro nemmeno in prospettiva e riguardo diciamo alla sistematica e sistematico ricorso all'opting out da parte del Regno Unito ovviamente si potrebbe fare un discorso molto lungo rispetto all'atteggiamento con cui dall'inizio dell'adesione il Regno Unito si è approcciato alla costruzione comunitaria molto spesso ha dimostrato una lettura di questi processi molto diversa rispetto agli altri paesi dell'Europa continentale a volte anche con un retroterra culturale che viene anche riconosciuto criticamente da alcuni osservatori europeisti dello stesso Regno Unito rispetto a questo mi permetto di fare una piccola escursione in campo letterario anche con un po' di ironia leggendo un veloce passaggio di Jonathan Coe nel suo Middle England un romanzo diciamo che tra le altre cose riflette un po' sulle ambasce le angosce del ceto medio inglese nella fase di avvicinamento all'epoca Brexit all'era Brexit in Italia è stato pubblicato nel 2018 la professoressa mi aiuta un po' a leggere questo passaggio lei insegna all'università vero? funziona meglio in quel verso Mr. Wu ci riflette su e poi sorrise con ammirazione vede è questo che mi piace degli inglesi tutti vi credono un popolo affidabile conservatore ma poi rompete sempre le regole se vi serve per ottenere ciò che volete non vi fate alcun problema rise felice persino William Blake l'ha fatto eh sì rompere le regole evidentemente è uno schema che per ottenere poi quello che diciamo volevano gli inglesi spesso è stato attuato e rispetto a questo torniamo poi all'interrogativo iniziale che vi proponevo ossia questa costituzione comunitaria è quindi nel complesso una storia di successi allora a noi questo concetto è chiaro ovviamente però io penso che noi dobbiamo veramente fare uno sforzo per far capire ai ragazzi e alle ragazze questo problema questo aspetto innanzitutto che come tutti i fenomeni storici l'integrazione non è stato sempre un processo né lineare né sempre vincente nonostante ovviamente le indubbie acquisizioni che ne hanno fatto comunque una delle grandi costruzioni del novecento e oltre ma è importantissimo spiegare far capire più che altro anche con qualche esempio la complessità l'alternarsi di successi e fallimenti di accelerazioni e rallentamenti di stop and go e il fatto che questo processo non sempre è stato sostenuto dalla partecipazione attiva dei cittadini e dal consenso questo anche prima della Brexit e dell'ultimo periodo di crisi complessiva in cui si è parlato di euroscetticismo e poi ovviamente tutti i fenomeni più recenti che conosciamo è molto importante perché questo spiega anche la struttura tutta particolare dell'Unione Europea che non ha eguali in tutto il mondo non è una confederazione men che meno uno Stato federale non è poi semplicemente una associazione di paesi è una struttura ibrida ma questa struttura ibrida intanto si spiega oggi così con l'accelerazione dell'Unione in alcuni aspetti monetaria per esempio è la sovranità nazionale su altri l'esercito per esempio perché è il risultato di un lungo e complicato lavoro di mediazione in cui gli Stati hanno rinunciato volta per volta a qualcosa conservando altri aspetti della propria sovranità per costruire un'istituzione assolutamente non solo innovativa ma unica nella storia politica mondiale e quindi questa struttura così ibrida così anomala si può spiegare solo facendo comprendere la natura vera del processo con cui si è arrivati a questa realtà secondo capitolo delle narrazioni narrare con le carte geografiche questo prospetto che voi vedete che io ho preso da una agenzia di stampa è molto ricorrente anche in alcuni manuali sia di storia che di geostoria e sostanzialmente è esatto cioè non contiene informazioni sbagliate ci mancherebbe anzi c'è anche la finezza in basso a sinistra di mostrare anche come si aggiunge la ex Germania Est con la Germania unificata nel 91 e via dicendo e stando a questo prospetto ovviamente il primo dal punto di vista proprio prettamente territoriale il primo stop il primo arretramento è quello della Brexit dal diciamo votato nel 2016 ma poi realizzato appunto nel 2020 anche questa narrazione pur essendo sostanzialmente esatta ed è utile a dare proprio un colpo d'occhio sul cosiddetto fenomeno dell'allargamento ha delle piccole crepe che secondo me vanno evidenziate e sono significative perché mettiamo in discussione andiamo a mettere in discussione quest'altro assioma ossia che prima della Brexit il processo è stato continuo e lineare allora ci sono due problemi dal punto di vista proprio della esattezza di queste come carte storiche un problema è qui al 57 e un altro qui e un altro e qui allora il primo problema riguarda l'Algeria perché pochi pochi sanno il fatto che quando la Francia è aderito al trattato istitutivo della CE il territorio dell'Algeria che era una colonia francese fu pienamente incluso tra i territori di applicazione del trattato e quindi in teoria diciamo la cartina più fedele dovrebbe essere come la vediamo sulla destra ma poi nel 62 succede una cosa ancora più interessante cioè l'Algeria ottiene l'indipendenza dalla Francia questa cosa avrebbe dovuto comportare il recesso automatico della CE ma l'Algeria decise unilateralmente di continuare a mantenere l'applicazione del trattato avviando una trattativa lunghissima che viene conclusa solo nel 76 quindi questa è la exit formalmente non senza referendum non con un referendum ma questa è la prima exit in assoluto della storia della CE di cui pochissimi hanno memoria ovviamente conseguente ad un processo di decolonizzazione quindi qualcosa di completamente diverso però è interessante capire il fatto che già questo comportava una trattativa perché evidentemente c'erano interessi importanti che venivano riconosciuti dalla stessa Algeria riguardanti soprattutto l'area del mercato comune e questioni anche che avevano a che fare con le risorse minerali ed energetiche 62 76 al jacksit se voi cercate al jacksit in realtà non la trovate assolutamente trovate un prodotto che serve a liberare gli acquari dalle alghe quindi assolutamente misconosciuto come processo è il primo punto critico di questa narrazione il secondo punto critico di questa narrazione invece è la Groenlandia parliamo di un piccolo territorio naturalmente dal punto di vista della popolazione ma anche questa è una storia interessante da raccontare perché i groenlandesi entrano direttamente nella CE insieme alla Danimarca poi nel 79 ottengono l'autonomia dal Parlamento danese e pochi anni dopo fanno un referendum questo è il primo referendum di una exit nella storia della comunità europea e la maggioranza dei groenlandesi vota a favore dell'uscita infatti si parla di groen exit su questo qualcosa trovate poco ma qualcosa c'è in rete e anche qui però la trattativa non è così veloce perché comunque si conclude solo nell'85 in seguito un trattato specifico che regolava per esempio i rapporti in materia di pesca perché c'erano appunto anche qui degli interessi importanti da mettere in chiaro e quindi nasce la necessità di avere una dimensione più esatta dal punto di vista proprio strettamente geografico cartografico proprio di cartografia storica del processo di integrazione europea ed è questa gif animata che vi sto mostrando in cui per esempio i casi Algeria e Groenlandia sono esattamente contemplati rispetto all'avanzare del tempo e poi ovviamente c'è anche l'uscita della Gran Bretagna la formazione degli stati dell'Europa dell'Est e via dicendo questo tipo di ricostruzione dinamica continua a dare ovviamente una rappresentazione chiara del processo di espansione quindi non toglie nulla all'indubbio processo di espansione dall'altro lato però dà anche una rappresentazione più precisa del fatto che ci sono pure dei territori che escono e quindi anche dal punto di vista dell'impatto visivo ti dà l'idea con più esattezza di come funzionano i processi storici ci sono territori che prima ci sono e che poi non ci sono altri che poi compaiono e poi scompaiono e via dicendo la cosa interessante è capire dove si trova questa GIF una scoperta che mette in discussione tutte le linee guida teoriche sulla attendibilità delle fonti quando si fa una ricerca su internet perché noi spieghiamo ai nostri ragazzi ragazzi attenzione guardate l'attendibilità delle fonti da dove provengono le fonti istituzionali le fonti delle accademiche le fonti ufficiali sono più autorevoli altre fonti sono più da controllare bene questa cartina qui è su Wikipedia su Wikipedia troviamo forse l'unica o tra le poche cartine realmente precise del processo di integrazione dal punto di vista geografico direi proprio cartografico quindi mettiamo in discussione l'illusione ottica di un processo espansivo continuo e lineare e evidenziamo come questo genere di narrazioni quando appunto offrono una prospettiva selettiva sono radicate sono spesso motivate ecco da uno scopo identitario cioè quello di costruire un senso comune di appartenenza e su questo che dobbiamo allenarci prima noi e poi dobbiamo anche avvertire avvertire mettere in guardia pure i nostri alunni rispetto a quello che c'è sulla rete cioè dobbiamo cominciare ad allenare ragazzi a riconoscere la differenza tra quella che è informazione documentazione e quella che è narrazione perché la narrazione che non è da stigmatizzare in sé per sé ha uno scopo che è quello di costruire un senso di appartenenza la documentazione ha un altro scopo tant'è che ormai è da un po' di tempo che si sono sviluppati degli specifici studi da parte degli storici studi sulle politiche della memoria cioè gli stati e le grandi istituzioni Unione Europea compresa ma anche le regioni ormai portano avanti specifiche politiche per la costruzione di una memoria ora in sé la cosa non è assolutamente deprecabile perché serve proprio a costruire una cultura storica ma il problema è che la cultura storica diffusa si può costruire talvolta anche attraverso alcuni silenzi alcune enfatizzazioni alcuni ridenzionamenti invece di prospettive che richiedono una rappresentazione più autentica inoltre ovviamente le politiche della memoria dal punto di vista della narrazione identitaria presentano portano insieme con sé tutti i limiti e i rischi di quelli che sono gli stereotipi narrativi quelli che si costruiscono quando bisogna fondare un canone e a questo proposito mi permetto di proporre alla vostra attenzione un esempio andato a ripescare nella memoria del web di cosa succede quando inseguiamo un po' le politiche della memoria soprattutto quando ci facciamo un po' prendere diciamo dagli intenti un po' celebrativi della storia nel 2010 c'è appunto questa associazione EUCA che è un'associazione che unisce i collegi universitari dell'Unione Europea aveva bandito un concorso che si chiamava Messaging and Battle beh questo concorso era finalizzato a promuovere iniziative per sensibilizzare sulla cittadinanza europea responsabile attraverso la realizzazione di un cortometraggio da parte degli studenti stessi e c'era appunto una giuria ed è importante capire da chi era composta questa giuria era composta da rappresentanti delle istituzioni ed esperti in comunicazione tutte le volte che leggiamo esperti in comunicazione dobbiamo stare attenti perché se si accende dentro di noi la campanella dello storytelling e quindi dove c'è lo storytelling stiamo attenti perché può divergere un po' da da un certo rigore storiografico il documentario il corto scusate il cortometraggio che vince questo concorso si chiamava As Time Goes By e fu realizzato proprio da studenti italiani del collegio in Audi di Torino questo documentario non si trova più in rete però io sono andato a ripescarlo dal deep web diciamo così dalla memoria della rete e vale la pena vale la pena di essere guardato perché presenta degli elementi molto interessanti quindi Ada io adesso vado a recuperare un attimo il file del documentario per poterlo visualizzare eccolo qua è privo di audio perché appunto nella rete non si trovava ma l'audio originale era solo una sequenza di alcune canzoni soprattutto dei Beatles quindi non arricchisce nulla dal punto di vista del contenuto dammi una conferma del fatto che sia visibile assolutamente sì ok ok Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 critica rispetto a questo e quindi tornano le domande che vi ho fatto prima, ma informazione o narrazione? Storia o memoria? Quindi i nostri ragazzi, scusate se ripeto questa espressione ma giusto per capirci, insomma so che può risultare un po' fastidiosa, ma i nostri ragazzi quando vanno a consultare materiali in rete che non siano documenti specifici, testi specifici oppure documenti filmati autentici, quando ritrovano elementi di sintesi, rappresentazioni, narrazioni, trovano elementi di informazione o elementi di narrazione? Deve essere fatta anche secondo me questa educazione quando si parla di educazione al digital storytelling, cioè che c'è una comunicazione pubblica che ha un obiettivo preciso, in questo caso per esempio costruire una memoria comune in cui i cittadini devono riconoscersi, ma la documentazione, l'analisi della documentazione e i processi storici sono qualche cosa di diverso e ovviamente mi permetterete come ultimo capitolo di questa carrellata di fare una riflessione su tutto quello che c'è sempre al principio di una narrazione, when everything began, cioè i padri fondatori. Qui abbiamo, ho fatto volutamente questo pantheon di figure, alcune sono figure che voi più o meno potete riconoscere come De Gasperi per esempio, oppure in basso a sinistra Spinelli, addirittura oltre a Churchill vediamo anche Truman perché alcuni hanno riconosciuto il suo ruolo indiretto nel favorire la nascita della costruzione comunitaria. Altri sono nomi il cui pedigree come padri fondatori e inattaccabile come per esempio Schumann, Adenauer, Jean Monnet, Henri Spack, altre sono donne, sono donne che in vari modi, in vari momenti della storia hanno contribuito anche indirettamente a compiere alcuni passi. C'è anche Sophie Scholl il cui nome è stato riconosciuto per un contributo e poi ci sono anche gli illustri, i presunti diciamo così antecedenti storici, il discusso Calergi per esempio e via dicendo. È un pantheon in continuo movimento, un pentolone che ribolle di padri fondatori e madri fondatrici e all'occhiello c'è sempre quel manifesto di Ventotene che ogni tanto fa capolino in queste narrazioni. Su web c'è tantissimo su questo, è proprio la dicitura, anche documenti ufficiali, i padri fondatori dell'Unione Europea, Presidenza Italiana del Consiglio, 2014, documenti di Raistoria, l'Europa dei padri fondatori e qui poi sotto vedete anche oltre ai classici ci sono altri personaggi come Calergi e poi anticipatori come Spinelli e via dicendo. Poi ci si è resi conto che questa narrazione non rispondeva più alla moderna sensibilità sul ruolo delle donne e quindi parte un'iniziativa di studio e di sensibilizzazione sulle madri fondatrici dell'Europa, facendo soprattutto riferimento a personaggi che nella fase poi di preparazione dell'Unione Europea hanno creato i presupposti perché questa costruzione potesse rafforzarsi e quindi una pubblicazione importante di Maria Pia di Nonno e una mostra itinerante con questa sensibilità e quindi si è modificato ancora il lancio di questa cosa, madri e padri fondatori dell'Unione Europea e poi il sito dell'Unione Europea che prima si intitolava i padri fondatori del 2 diventa i pionieri del 2, leader visionari che hanno ispirato la creazione della moderna Unione Europea e ovviamente è scritto e specificato molto bene che questa sezione relativa ai pionieri è in continua evoluzione e infatti questo elenco se consultato anni fa era di stento 8-9 nomi e adesso si sta allungando a disvisura con l'inserimento non solo di alcune donne ma anche di persone che afferiscono ad aree geografiche e culturali diverse insomma per esempio Melina Mercuri per la Grecia e via dicendo quindi anche questo Pantheon è un materiale affisarmonica, è un materiale che progressivamente si plasma e si riformula anche in base alle sensibilità a come cambiano, è ovvio che quindi stiamo maneggiando materiale storico per costruire comunque una narrazione sempre con intenti di identificazione a questo proposito voglio soffermarmi alla ricerca dei padri su due casi più uno molto velocemente e con questo ovviamente concludo poi vado a concludere la prima parte di questa nostra chiacchierata riprendendo appunto queste storie in pillole che avevamo visto all'inizio gli italiani spingono molto su Spinelli sulla faccenda del manifesto di Ventotene i britannici molto su Churchill sul discorso all'università di Zurigo in Francia c'è un'enfasi importante su personaggi indiscutibili come Monet, Schumann e via dicendo ma il ruolo di Churchill e di Spinelli è assolutamente riconosciuto ma anche fuori da quest'area geografica per esempio in Spagna viene ancora una volta riconosciuto il discorso di Churchill, questo è uno screenshot che ho preso da una cronologia fatta in formato di filmato di un master universitario spagnolo ovviamente ogni tanto bisogna scovare un po' queste cose sul web per capire come si sta costruendo questa consapevolezza europea di questi percorsi bene dappertutto per quanto riguarda Churchill si fa riferimento a questo benedetto discorso di Zurigo a questo punto viene addirittura considerato come uno dei momenti dei germi principali anche il sito europa.eu di cui vi mostro questo screenshot proprio addirittura riporta un breve filmato proprio di quel discorso allora la scheda ufficiale del sito europa.eu riporta pure la citazione in cui lui appunto dice esiste un rimedio che in pochi anni renderebbe tutta l'europa libera e felice ricostruzione della famiglia dei popoli europei e via dicendo e poi dice dobbiamo costruire una sorta di Stati Uniti d'Europa e in questi casi andiamo a vedere veramente il documento questo anche in un'ottica clean come lavoro con i ragazzi si può fare noi dove per comodità lo vediamo in traduzione però è utile tenerlo d'occhio anche in lingua originale quindi anche questa volta chiedo il tuo aiuto per leggere questi passaggi sono stato molto felice di leggere due giorni fa nei giornali che il mio amico presidente Truman ha espresso il suo interesse e la sua simpatia per questo grande progetto non esiste alcuna ragione per la quale l'organizzazione regionale europea debba in qualche modo entrare in conflitto con l'organizzazione mondiale delle nazioni unite al contrario io credo che questa più ampia sintesi di nazioni può sopravvivere solo se si fonda su omogenei raggruppamenti naturali nell'emisfero occidentale esiste già un raggruppamento naturale noi britannici abbiamo il nostro Commonwealth di nazioni che non indebolisce l'organizzazione mondiale ma al contrario la rafforza infatti ne costituisce il principale sostegno e perché non dovrebbe esistere un raggruppamento europeo che potrebbe dare un senso di più ampio patriottismo di cittadinanza comune ai popoli smarriti di questo inquieto e potente continente e perché non dovrebbe occupare il posto che gli spetta tra gli altri grandi raggruppamenti e contribuire a modellare i futuri destini dell'umanità ok qui facciamo un piccolo salto qui forse già qualcuno sente odore di polvere da sparo però andiamo un po più nel dettaglio dobbiamo ricreare la famiglia europea in una struttura che potrebbe chiamarsi stati uniti d'europa vai pure ad a bisogna ora che vi riassuma le proposte che avete davanti il nostro fine costante deve essere di creare e rafforzare l'organizzazione delle nazioni unite sotto la direzione nel quadro di questa organizzazione mondiale dobbiamo ricreare la famiglia europea in una struttura che potrebbe chiamarsi stati uniti d'europa ed il primo passo concreto concreto sarà quello di costituire un consiglio d'europa se da principio non tutti gli stati d'europa vogliono o sono in grado di far parte dell'unione dobbiamo ciò nonostante continuare a riunire e ad organizzare quelli che vogliono e quelli che possono il mezzo per risparmiare agli uomini di ogni razza e di ogni paese la guerra e la schiavitù deve poggiare su solide basi ed essere assicurato dalla disponibilità di tutti gli uomini e di tutte le donne a morire piuttosto che sottomettersi alla tirannia e francia e germania devo prendi devono prendere insieme la guida di quest'urgente lavoro la gran bretagna il convo al britannico la potente america e spero la russia sovietica perché allora tutto andrebbe bene devono essere amici e sostenitori della nuova europa e devono difendere il suo diritto a vivere e a risplendere perciò lasciate che l'europa sorga quindi attenzione grande discorso grande sollecitazione verso il processo di unificazione europea ripetuti richiami alla famiglia del commonwealth e e poi questa frase che chiarisce ma per alcuni non fu chiara la gran bretagna il commonwealth britannico l'america e si spera anche la russia sovietica nei sogni all'epoca devono essere amici e sostenito amici e sostenitori della nuova europa è una formula per certi aspetti anche ambigua perché non riusciamo a capire o forse l'abbiamo capito se churchill considera la gran bretagna europa oppure no e alle spalle di tutto questo quanto i britannici si sentono europei no e io perciò sono andato a vedermi il testo originale che dice questo dice great britain british commonwealth eccetera dice must be the friends and sponsors gli sponsor lo sponsor il sostenitore è qualcosa di esterno un processo è un patrocinio è un padrino se vogliamo anche un finanziatore ma non è parte di integrante di quel processo per cui a toglierci questi dubbi ci pensa paul henry spack lui si è un vero padre fondatore un po meno conosciuto degli altri ministro degli esteri belga che in questa memoria i suoi diari quindi questo documento ci dice questo ci dice quando ci si ricorda del discorso di zurigo di churchill sempre spack dice quando ci si ricorda che fu pronunciato un anno e mezzo dopo la fine del secondo conflitto mondiale non si può non ammirare il coraggio di quest'uomo oramai anziano che non esitava a intraprendere nuove difficili battaglie questo intervento galvanizzò l'ardore di quanti credevano nella necessità di una nuova europa il che rende churchill uno dei suoi pionieri il problema è che è all'origine di un equivoco il discorso all'epoca non è stato compreso per via delle iniziative intraprese da churchill esso si manifestò però ci avvenne alla luce quando churchill che all'epoca del discorso di zurigo non era alla guida del governo diciamo britannico successivamente tornò alla guida del governo e lui ritornato alla guida del governo si rifiutò di aderire alla cieca e alla comunità europea per la difesa eppure dice lui rileggendolo attentamente appunto dico io rileggendolo attentamente il discorso di zurigo è chiaro certo quando egli parlava in termini solenni dell'europa si poteva ritenere che comprendesse la gran bretagna non era affatto vero churchill preconizzava un'europa continentale la francia e la germania dovevano essere i leader la gran bretagna il comodo gli stati uniti e se possibile unione sovietica gli amici sostenitori poi più secco dice egli non intendeva farne parte per qualche anno nessuno gli chiese spiegazioni mi fa molto ridere questa frase per qualche anno nessuno gli chiese spiegazioni si era troppo contenti del sostegno che egli recava a una causa così grande l'equivoco giovava a tutti è interessante il fatto che questo equivoco si è trascinato praticamente fino ad oggi un padre fondatore che non aveva intenzione di far parte della famiglia che stava per fondare questo è un esempio per dimostrare come le fanfare di queste narrazioni appunto di scopo identitario vanno un po' smorzate per andare poi a vedere concretamente le varie situazioni i vari ruoli quindi dentro tutto quel panteo c'è molto lavoro da fare perché ci sono delle figure di specchiata fede diciamo di specchiato curriculum di fondatori che si sono realmente sporcati le mani con una costruzione alla quale hanno aderito poi e poi ci sono anche figure come cerci che sono passate alla storia in un discorso che poi conteneva anche questi equivoci ed è un esempio di queste narrazioni rispetto all'atteggiamento che c'era da parte dei britannici rispetto a a l'europa continentale ci aveva avvertiti il buon vecchio eric arthur blair in arte orwell che era un sincero europeista a quell'epoca lui addirittura sognava in un pamphlet del 47 ha detto esplicitamente che sognava stati uniti socialisti d'europa ma nel 41 in un pamphlet molto interessante si chiama il leone e l'unicorno dice queste cose a proposito dell'atteggiamento dei suoi conterrani rispetto all'europa continentale l'insularità degli inglesi il loro rifiuto a prendere gli stranieri sul serio è una follia che occorre pagare a caro prezzo di tanto in tanto ma gioca la sua parte nella mistica inglese e gli intellettuali che hanno tentato di combatterla in genere hanno fatto più male che bene in fondo è la stessa qualità nel carattere inglese che respinge il turista e tiene fuori l'invasore e anche qui c'è un certo c'è la classica ambiguità tra la critica di un certo atteggiamento verso l'insularità degli inglesi e anche un certo orgoglio perché lui intravede in questo anche il segreto per la capacità che gli inglesi hanno tirato fuori per uscire dalle situazioni di crisi meglio e prima di altri e diciamo che in un confronto un po' con la situazione attuale tutto il discorso sui vaccini eccetera e sulla situazione tra Gran Bretagna e Unione Europea qualche analogia la troviamo anche rispetto a questo perché ho richiamato Orwell addirittura perché pur da europeista questa voce critica e già sapeva intravedere qualche elemento di diffidenza che evidentemente anche l'atteggiamento di Churchill portava avanti come background culturale quanto veramente anche in un contesto del genere i britannici si sentono europei quanto si sentono diversi qualcosa di diverso sia dagli americani che dagli europei e quanto questo retroterra ha pesato anche nell'atteggiamento successivo dei governi britannici rispetto alla costruzione comunitaria fino poi alla crisi della Brexit e quanto appunto tutto questo va a influire sulla rappresentazione di un Churchill mescolato in quel calderone dei padri fondatori con altri personaggi anche il caso di Spinelli è controverso io poiché non abbiamo diciamo non abbiamo tempo taglio una cosa che avrei voluto farvi vedere e cioè un filmato di cui ho riportato qui uno screenshot che si trova in rete questo è uno dei tanti filmati didattici che si che sono abbinati ai libri di testo sempre per i licei di una famosa casa editrice in questo caso questo filmato dice esplicitamente fa un esplicito riferimento al manifesto della divento tene e poi dice che questo dice testualmente che questo sogno ha iniziato a trovare applicazione a diventare realtà inizia a diventare realtà con la cieca con la realizzazione della cieca e quindi e poi ovviamente col processo successivo a questo punto è utile vedere che cosa diceva Spinelli in persona intervistato sulla nascita del mercato comune e dell'Euratom intervistato su una rivista meridionalista nel 57 lui dice chiaro dice questo dice né trattato del mercato comune nell'Euratom possono in alcun modo essere considerati come una tappa fondamentale per l'integrazione politica europea è impressionante leggere queste queste affermazioni essi sono una tappa del lungo antico e vano tentativo degli stati sovrani di realizzare una collaborazione permanente durevole attraverso trattati conservando la loro sovranità cosa che a lui appunto non interessava perché lui aveva un'altra visione delle cose come è scritto nel manifesto di ventotene come tutta la politica di libero scandio del secolo diciannovesimo non è stata una tappa verso l'unione politica così non lo è la politica iniziata con la oece e che continua ora con questi trattati per fare l'unità politica non c'è che un mezzo cominciare a farla e non fare altra cosa questo è solo un esempio di diverse prese di posizione in cui spinelli si prendeva molto le distanze dalla ce e dall'Euratom così come nascevano lui diceva questa è un'altra cosa non c'entra nulla con quello che io ho immaginato a ventotene con quello che serve serve che gli stati rinunciano alla loro sovranità e in un soggetto e si scioglano in soggetto più grande quanto questo fosse giusto o meno non interessano quello che interessa è il fatto che considerare altiero spinelli tra i padri fondatori insieme a tutti quegli altri che avevamo visto anche quella una forzatura alla luce proprio di questi documenti è altrettanto vero che spinelli poi per un po in discussione qui nasce quindi l'interrogativo e con questo mi avvio veramente a concludere questa prima parte del nostro incontro ossia ma di quale europa sono padri fondatori e madri fondatrici questi personaggi che abbiamo in questo pantheon che si allarga a dismisura e qui ci serve questo passo indietro il discorso di ventotene nasceva sulle macerie dello stato nazione noi abbiamo di fronte a noi una fotografia delle macerie di berlino e queste erano per loro anche macerie dello stato nazione loro ritenevano gli estensori il manifesto di ventotene che lo stato nazione fatalmente tendesse a degenerare nel nazionalismo imperialista e quindi era destinato fatalmente a compromettere la pace e la libertà e quindi immaginavano un superamento attraverso un modello puramente federalista in questo senso gli stati uniti d'europa e il problema che questa opzione specifica incontrato è stata proprio la resistenza dei rappresentanti degli stati nazionali che hanno continuato a pensare che non fosse pensabile accettabile cedere a un organismo sopra nazionali alcuni aspetti centrali della sovranità come la difesa la politica estera e alcuni aspetti della politica interna mentre sono stati molto più malleabili sulla politica economica e quindi la mossa del cavallo va attribuita a questo personaggio questo sì è un padre fondatore neutralmente inteso poi non stiamo a discutere quanto funziona però è la soluzione che ha permesso di uscire dalle secche delle crisi politiche della costruzione comunitaria il cosiddetto modello funzionalista questo per esempio un modello è un elemento che secondo me lo studio in una unità di apprendimento di storia su questi argomenti per i ragazzi serve capire cioè modello basato su un negoziato continuo tra stati sovrani che redigendo trattati passo dopo passo stabiliscono di comune accordo di cedere pezzi di sovranità ad un'organizzazione sovranazionale così ha funzionato così è andato avanti e continua ad andare avanti nonostante il livello molto avanzato di integrazione su alcune cose no per esempio quello monetario e su altre no per esempio l'esercito la politica di difesa ma il modello funzionalista e il vero modello che ha guidato la realizzazione comunitaria non certo quello federalista e questo deve essere molto chiaro quindi alla fine e vado a concludere è utile a 70 anni dalla costruzione comunitaria che diciamo se assumiamo il 1951 come data prima si registrano proprio quest'anno rileggere il processo di integrazione europea va fatto sempre confrontando le narrazioni identitarie con una ricerca documentale e il nostro ruolo da riscoprire come docenti anche in tempi complicatissimi dal punto di vista didattica come questo quando veramente vogliamo affrontare il tema coi ragazzi e vogliamo usare le fonti sul web è proprio questo cioè riscoprire le caratteristiche del lavoro della storia e dello storico e accantonare con le sue trappole lo storytelling vi ringrazio per l'attenzione e mi fermo un attimo così magari raccogliamo qualche domanda poi c'è una successiva parte in cui potrei mostrarvi anche dei materiali di lavoro didattico grazie